La natura è la nostra compagna di ballo. Come ripeteva Raymond Murphy, gli attori umani danzano con le movenze delle entità naturali, dando forma a costruzioni ibride, influenzandosi vicendevolmente e conservando un po' della loro autonomia. Il corso di Sociologia dell'Ambiente affronta le grandi questioni che riguardano il rapporto fra società e natura. Analizzerai la crisi climatica e il concetto di transizione sostenibile. Approfondirai le principali questioni sociali legate al rapporto fra innovazione, stili di vita emergenti e governance dell'ambiente. Attraverso ecoconversazioni con alcuni dei più importanti studiosi internazionali, approfondimenti tematici e testimonianze, imparerai ad analizzare temi complessi con l'obiettivo di immaginare strategie ed interventi per un futuro più attento agli equilibri della nostra casa comune. Il corso è rivolto a studenti universitari e agli attori del mondo produttivo, associativo, della rappresentanza e delle istituzioni. Sviluppa le tue conoscenze sulle grandi questioni che riguardano il rapporto fra società e natura. Segui il corso ed iscriviti su federica.eu.